Ciao e benvenuta sul mio canale, io sono Irene, sono un'infermiera pediatrica, consulente per allattamento e baby wearing. Ciao e bentornata, se sei nuova ti invito a iscriverti al canale e ad attivare le notifiche tramite il pulsante con la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Se il video ti piace o lo ritieni utile ti chiedo di mettere un like in modo da farmelo capire e se ti va di lasciare un commento ne sarei molto felice. Oggi parliamo di un prodotto che sto testando ormai da diverso tempo, che è il marsupio della Didymos, il Didy Snap. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, appunto. Questo è il Didy Snap, questo è il colore Rosalind ed è un doppio colore in quanto dentro in realtà è grigio e fuori è di questo rosa antico. Spero che renda in videocamera. È un marsupio regolabile. Allora, mi sta piacendo. Innanzitutto vi dico che è un prodotto che avevo forse sottovalutato o comunque non avevo mai veramente molto considerato perché dipende sempre molto un po' anche dalla moda del momento, cosa sta andando in voga, eccetera. e non mi era capitato ancora di averlo sotto mano. Quindi sono veramente felicissima di essere diventata ambasciatrice di Didymos per questi mesi perché mi sta dando proprio la possibilità di in questo caso provare questo supporto che io sconoscevo e che in realtà sto usando tantissimo nonostante mia figlia abbia due anni. quindi è un prodotto che ci si porta a lungo che per i suoi mi pare 139 euro è assolutamente qualcosa di molto valido. Partendo dal presupposto che il prezzo è assolutamente nella norma gli altri marsupi costano più o meno circa ci distanziamo di un 10-20 euro in meno o in più ma siamo più o meno lì quindi assolutamente nella media di prezzo di un marsupio ergonomico devo dire che mi sta piacendo. Allora, che cosa mi piace di questo marsupio? Una delle cose che mi è piaciuta subito la prima volta è stata proprio il tessuto in quanto è un 100% cotone ma già la prima volta senza neanche lavarlo sciacquarlo era già morbidissimo e questo mi dà la sensazione proprio per esempio anche su un piccolino un bambino piccolo che possa contenerlo adeguatamente rispetto ad altri marsupi che sono un pochino più rigidi che ovviamente nella distanza d'età questa cosa va a dare un pro agli altri marsupi ma in realtà non è un contro per questo faccio vedere l'etichetta dà indicazione appunto di lavarlo a 30 gradi a mano ma si può tranquillamente lavare il lavatrice col programma lavaggio a mano qua dentro abbiamo un'etichetta con le varie informazioni nelle diverse lingue tra cui anche l'italiano dà praticamente come indicazione per i bambini dai 3,5 kg ai 20 kg allora su questo io non mi trovo d'accordo nel senso che 3,5 kg è praticamente un bambino appena nato nella media tanto meno e secondo me un neonato in un marsupio comunque no bisogna aspettare un pochettino quindi su questo posso fare l'appunto a Didymos ma in realtà a tutti gli altri brand perché non esiste un marsupio regolabile che dicano no da poi dicono dai 3,5 kg dai 0 anni ma in realtà nessun marsupio è veramente utilizzabile a quell'età io ritengo farò sicuramente la prova fisica quando nascerà la mia bambina a maggio voglio vedere com'è con un neonato e lo farò poi a 3 mesi ma secondo me intorno al terzo mese questo è un prodotto che si adatta bene l'ho provato con la mia bambola didattica che appunto simula un bimbo di 3 mesi e devo dire che ci sta dentro bene la seduta è questa ed è regolabile tramite pulisse quindi si tira così molto semplicemente e questo mi piace tanto perché rispetto ad altri a cui devi fare tu fisicamente il nodino questo è comunque una buona soluzione tiene ben fermo anche se il mio preferito rimane il velcro in ogni caso e la seduta vedete che si stringe veramente tantissimo veramente veramente tanto sul blog trovate tutte le foto con le indicazioni dei centimetri però si stringe tanto e qua rimane alla parte dell'incam quindi dove va il cavo poplitio che è leggermente imbottita ma comunque molto morbida il fascione è un semi rigido nel senso che è rigido non è di quelli molli molli ma allo stesso tempo vi assicuro che non è troppo rigido anche la sensazione che dà sul corpo soprattutto io adesso che ho la pancia quando lo leggo comunque è confortevole la regolazione in altezza in realtà del pannello non ce l'ha ma ha questa parte che quindi nel caso in cui il bambino sia grande si tira in automatico mettendolo su se il bambino è piccolo rimane più corto quindi comunque in un certo senso si autoregola la parte del copritesta anche questa è regolata in questo modo quindi se abbiamo necessità ovviamente possiamo tirarlo oppure rimane più corto questo ripeto in base comunque alla nostra necessità e a ciò che abbiamo bisogno quindi dalla parte sotto si va a tirare si accorcia per quanto riguarda gli spallacci mi piace molto il fatto che abbia una doppia imbottitura quindi che anche nella parte questa qua più sotto non si rischia di avere la cinghia per quanto è rimovibile il tutto penso sia proprio rimovibile se uno dovesse dargli fastidio ma in realtà a me da molto comfort il fatto che la cinghia non vada a segarmi questa parte sotto a scellare ma risulti protetta imbottita e mi piace gli spallacci secondo me sono morbidi ma imbottiti al punto giusto qua ovviamente abbiamo la parte di regolazione se dovessimo avere una persona estremamente alta eccetera in cui possiamo far diventare più grande più lungo lo spallaccio oppure appunto possiamo accorciarlo in base alla nostra esigenza altra cosa nota positiva è il fatto che gli spallacci siano sganciabili quindi abbiamo la possibilità uno di incrociarli dietro la schiena e due al doppio attacco quindi o lo attacchiamo quindi sul pannello qua quindi ho la possibilità con un bimbo un pochino più grande di attaccarlo al pannello oppure ho la possibilità di attaccarlo non proprio direttamente al fascione perché questo no ma a livello centrale ho comunque questa possibilità quindi per non andare a inficiare la C della colonna quindi a tenere rigido tirando qua sul pannello posso andare ad agganciarlo sotto in questo modo quindi per i bimbi più piccoli potrebbe essere assolutamente d'aiuto i ganci mi piacciono sono un'ottima di ottima fattura e che dire per me è assolutamente un prodotto promosso con un con un ottimo voto direi sono mi rimace rimango un attimino nel dare un'opinione finale quando lo proverò effettivamente in pratica con la mia neonatina perché voglio proprio rendermi conto di come agisce su un bimbo neonato e come agisce su un bimbo di per esempio tre mesi e poi sei mesi come durata di utilizzo dicevo appunto che io lo utilizzo con mia figlia di due anni che è anche abbastanza altina per intenderci io adesso non l'ho misurata precisamente ma lei veste tranquillamente i due tre anni avendo fatto i due anni a febbraio quindi comunque abbastanza alta e ancora siamo dentro diciamo al pelo ecco ci sono supporti che si allargano un pochino di più a livello di seduta si regolano un pochino più ampi però il pro secondo me di questo prodotto è che è uno di quelli che si può usare con i bimbi anche un pelino più piccini prima dei sei mesi e questo è ripeto estremamente positivo se voi avete il didi snap vorrei sapere che cosa ne pensate se la recensione vi è piaciuta se invece avete trovato delle criticità usandolo eccetera ve ne sarei grata e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti